Ciao a tutti, io sono Diego Bagnoli e vengo da Castelfranco di Sotto, frequento l'Istituto Carlo Cattaneo e le mie passioni sono la musica e la qualabolo e il mio hobby è la palestra. Ciao a tutti, sono Reggio Saccuti, abito a Castelfranco di Sotto in provincia di Fisa e frequento l'Istituto Carlo Cattaneo di San Mignota. Le mie passioni più importanti sono il calcio, che la pratico da 13 anni e i motori. Sì, sono Riccardo Ricci, vengo da Castelfranco di Sotto, frequento l'Istituto Tecnico Carlo Cattaneo di San Mignoto Alto, le mie passioni sono il basket, la musica e le sneakers. Avevamo deciso di intervendere questo progetto per gioco, ma poi sono sempre più appassionato e infatti ha fortificato anche la nostra amicizia facendoci incontrare numerosi pomeriggi per decidere su quali e quante azioni investire.